Ciao da Absim! Prima di tutto c'è da fare i complimenti agli allenatori, gli allenatori che hanno forgiato, che hanno formato i grandi calciatori, i grandi colpi, gli acquisti costosi, quelli che ti dovevano risolvere la partita, che sono passati poi sotto la gestione di Massimiliano Allegri. Quindi tutti quei giocatori allenati da qualcun altro, forti perché allenati in precedenza da qualcun altro, e che in alcuni rari casi sono rimasti forti o diventati più forti, o diciamo che sono arrivati nel loro prime sotto Massimiliano Allegri, con Massimiliano Allegri, in altri casi maggioritari numericamente, quindi quantitativamente superiori, invece sono peggiorati o al massimo si sono mantenuti allo stesso livello dopo appunto la gestione, durante la gestione Allegri. Giocatori ovviamente della Juventus, parliamo limitatamente alla Juventus, partendo dal 2014, da quello che Allegri ha ereditato e quindi cominciamo con i ringraziamenti per Antonio Conte. Allegri non ringrazia quasi mai, però siamo noi a dover ringraziare Allegri, si dice sempre grazie Max, grande Max, si esonera magari, si elogia, stavo facendo una frase tra elogiare ed esaltare, però si esonera sarebbe meglio. Ecco, si elogia e si esalta, Allegri per qualunque, veramente per qualunque cosa, è sempre merito suo tutte le cose positive e non è mai colpa sua ed è merito suo le cose negative, così come non è mai merito degli altri. È difficile, se non impossibile, stabilire se un giocatore è forte o non è forte e se è forte per merito di qualcuno oppure no, però tendenzialmente possiamo fare un ragionamento e cioè comunque giocatori che sono arrivati forti alla Juve erano forti grazie al lavoro di qualcun altro, evidentemente, evidentemente. E questo qualcun altro corrisponde al nome di determinati allenatori. Poi, Allegri ha inciso, ha inciso bene, non ha inciso, questo poi magari vale per gli altri allenatori di quei giocatori dopo Allegri. E magari si potrebbe anche fare un ragionamento di questo tipo, ma lascio fare a qualche youtuber Allegriano o a qualche giornalista Allegriano l'altra parte, a patto però di non disconoscere questa parte, diciamo, questo pezzettino. Cioè, se si vuol fare il ragionamento, ci sono allenatori che devono ringraziare Allegri perché ha valorizzato determinati giocatori, ecco, intanto mi vai a dimostrare che sono stati valorizzati e poi però devi fare lo stesso ragionamento, quindi devi dare conferma a quello che dico. Ecco perché nessuno probabilmente citerà questo mio video per estendere il lavoro andando a dare i meriti a Max. E quindi facciamo i complimenti ai ragazzi che ragazzi non sono, che sono gli altri allenatori, ma ripeto, cominciamo con i ringraziamenti per Antonio Conte. I ringraziamenti per Antonio Conte. È chiaro che è difficile, ripeto, stabilire dei criteri oggettivi su quale Juve sia stata migliore, però non si può disconoscere il fatto che la Juve che Allegri ha ereditato era una Juve fatta forte da Conte. E parliamo anche di giocatori che forti non erano, cioè che colpi non erano. Parliamo di giocatori letteralmente valorizzati, letteralmente valorizzati. Anche la BBC nasce sostanzialmente con Antonio Conte. Prima Bonucci, chi era? Chiellini, chi era? Davvero, prima Chiellini, chi era? Barzagli, era uno che si stava ritirando e poi è andato pochi mesi dopo sotto Conte. Oppure potremmo parlare di Stigarribia, Giaccherini, Padoin, altri giocatori, Matri, Vucinic, a cui uno non dava manco un soldo. Vidal, oggetto veramente di scouting. Vidal è stato il Quaraskelia della Juve di dieci anni fa, pagato più o meno la stessa cifra, valorizzato fino a diventare un top mondiale. Poi non ha avuto probabilmente la serietà, la professionalità di Quaraskelia, però ha scelto lui per il resto. Ecco, è stato valorizzato da chi, Vidal, che è stato un anno con Allegri? Pirlo? Allegri per Pirlo deve ringraziare se stesso perché l'ha allenato al Milan? Non credo proprio. Pirlo se n'è andato, quanto si dice perché c'era Allegri e per il modo in cui lo faceva giocare, dopodiché ha fatto tre anni con Conte e si è rivitalizzato. Lo davano tutti per finito Pirlo. Quando ha lasciato il Milan è andato alla Juve, nella primissima Juve di Conte, ha vinto subito lo scudetto da protagonista. E ancora, ancora, ci sarebbero tanti altri nomi da fare, tralasciando ovviamente i portieri perché la Juventus ha sempre avuto Filippi come preparatore dei portieri e quindi lì non è cambiato nulla con tutti gli allenatori e c'è ancora Filippi. Quindi Buffon, Cesdi, non c'entra sostanzialmente nulla la valorizzazione dei portieri, la lasciamo come merito a Filippi, come merito di se stesso, quindi Filippi ringrazia se stesso. Per quanto riguarda invece gli allenatori di campo, dei giocatori di movimento, a livello di singoli, a livello di collettivo, a livello tattico e anche a livello di trofei, quanto Allegri deve ringraziare Conte? Tantissimo! Non lo sapremo mai, ma proviamo ad invertire. Facciamo che all'inaugurazione dell'Allianz Stadium nel 2011 non c'è Conte ma c'è Allegri come nuovo allenatore di quella nuova Juventus. Che succede? Allegri vince tre Scudetti, poi arriva Conte, ne vince cinque e fa due finali di Champions? Ah, vedo veramente difficile. Allegri probabilmente ne vince zero di Scudetti. Ne vince zero. Anche perché quello Scudetto fu vinto contro Allegri, che aveva un Milan campione d'Italia fortissimo. Quindi direi che abbiamo proprio la prova, abbiamo proprio la prova che Conte batte Allegri e che se Allegri viene dopo Conte è una cosa. Se Conte viene dopo Allegri è tutta un'altra cosa. Inoltre, fateci caso, Allegri dopo aver perso quello Scudetto non ha mai più allenato contro Conte in Serie A. Mai, non si sono mai più incontrati. E credo che questa sia stata la fortuna di Allegri. Quando Conte ha allenato in Serie A, Allegri stava fermo. Questa è stata la fortuna di Allegri. Se avesse incontrato di nuovo Conte, forse avrebbe avuto un po' di difficoltà in più. Cioè, se Allegri fosse stato allenatore della Juve nell'anno in cui l'Inter ha vinto lo Scudetto con Conte, la Juve che cosa avrebbe fatto? Non avrebbe vinto lo Scudetto, ma che figura avrebbe fatto con l'Allegri Scudettato, l'Allegri sempre vincitore di Scudetti? Queste sono domande a cui ognuno può provare a rispondere. Però è chiaro, il grande, enorme ringraziamento innanzitutto per Antonio Conte, per come ha costruito quella Juve lì. Poi sono arrivati gli acquisti. Sono arrivati gli acquisti, alcuni fatti già sotto Conte e sfruttati poi anche da Allegri, altri fatti invece direttamente con Allegri. Quindi cominciamo la carrellata. Cominciamo la carrellata con una serie di giocatori che o sono stati pagati tanto, o sono stati ritenuti giocatori chiave. Escludo magari qualcun altro che è stato comunque un giocatore di riferimento per Allegri, però non parliamo di fenomeni, parliamo comunque di giocatori che hanno dato il loro contributo. Cioè, per esempio, non tiro in ballo, non so, Asamoah, Aliksteiner, che sono stati giocatori importanti per quanto sono stati utilizzati. Però non è che Allegri si affidasse ad Asamoah e Aliksteiner per vincere le partite. Cioè, noi dobbiamo fare una carrellata che arriva, capite, fino ad Angel Di Maria. Il classico giocatore comprato per risolvere la partita. E allora, se tu prendi un giocatore che ti serve per risolvere la partita, devi ringraziare chi quel giocatore, senza che tu lo allenassi, te l'ha reso forte al punto da risolverti la partita. Allora cominciamo con Carlitos Tevez. Cominciamo con Tevez. Perché Tevez, prima di essere allenato da Allegri, e quindi Allegri poi deve ringraziare, è stato allenato da Arrua Barrena, è stato allenato da Antonio Conte, ovviamente, alla Juventus, per 48 partite. Era stato allenato al City da Roberto Mancini, 126 partite. È stato allenato da Hughes, da Sir Alex Ferguson, quando era al Manchester United. E poi una sfilza di altri, tra cui Carlos Bianci, che si segnala perché sono 46 partite, ma ci sono molti allenatori che hanno allenato Tevez nei club per poco tempo. Quindi chi deve ringraziare di più Allegri per il suo Tevez della stagione 14-15 è sicuramente Antonio Conte l'anno prima, ma in particolare Roberto Mancini. Quindi cominciamo a segnarci questi nomi. Conte e Mancini, deve ringraziare Allegri per Carlos Tevez. Poi arriva anche Alvaro Morata. Appena va via Conte, arriva Morata, che dovrebbe in realtà trovare Conte, perché era stato preso per Conte, però poi Conte se ne va e non abbiamo ancora capito realmente perché, e trova Allegri. Chi deve ringraziare Allegri per Morata? Prima di Allegri, Morata è stato allenato in particolare da Ancelotti e da Murigno, oltre che da Alberto Toril, probabilmente parliamo di giovanili. Con Ancelotti e Murigno, Morata fa 1500-1600 minuti in campo. Poi appunto, il primo allenatore più consistente di Morata è proprio Allegri. Poi però viene allenato da Zidane, da Conte al Chelsea, poi da Sarri, da Pirlo, e adesso, per una stagione, Allegri se l'è ritrovata, adesso è tornato sotto Diego Simeone, che pure aveva avuto nel frattempo. Quindi, chi deve ringraziare Allegri per Morata? Per la seconda volta ci dobbiamo mettere anche Pirlo, Sarri, Conte e Zidane. Per la prima volta, quantomeno Ancelotti e Murigno. Quanto meno Ancelotti e Murigno. Poi ci sarebbe da parlare di quegli allenatori che non sono degli allenatori, ma sono dei formatori, dei talenti, dei giovani. E lì è più difficile reperire informazioni. Però se parliamo di allenatori, ecco, voi mi direte, ma tu perché dici si deve ringraziare? Magari Ancelotti e Murigno non lo hanno valorizzato Morata. Non metto in discussione questo. Io dico che quando Tevez arriva alla Juve sotto Allegri, quando Morata arriva alla Juve sotto Allegri, si trova in una condizione che sia la migliore, o non sia la migliore possibile, quindi a livello di espressione del potenziale, è quella lì. E su quella si basa il ragionamento, il lavoro e anche la speculazione di un allenatore che cerca il giocatore che ti risolva la partita. E quindi, comunque, per quella condizione lì, Allegri deve ringraziare, in questo caso, anche Ancelotti e Murigno. Quindi abbiamo detto Conte, Ancelotti, Murigno, Mancini. Proseguiamo perché abbiamo Mandzukic. Il buon Mandzukic, prima di essere allenato da Allegri, infatti, è stato allenato da Simeone, da Guardiola, da Heinkes, da Magat, da Steve McLaren, e poi andiamo più indietro con Krunoslav Jurchic, Branko Ivankovic ed altri. Ma quelli più significativi e più recenti sono anche Heinkes, Guardiola e Simeone. Quindi Allegri deve ringraziare anche Guardiola, deve ringraziare Simeone, deve ringraziare Heinkes per quel Mandzukic lì, che lui ha impiegato per 162 partite. Dopodiché è finito, eh. Cioè, poi Mandzukic ha fatto, dopo Allegri, pensate, dopo Allegri ha fatto la bellezza di 20 presenze, di cui 11 con Pioli e poi, insomma, è andato anche uno dei pionieri del calcio saudita a Mandzukic. E quindi, all'Alduahil, anzi, per la precisione, che, per non sbagliare, in realtà è Katariota, ecco. Comunque, non saudita, ma diciamo comunque è arabo. Quindi Allegri per Mangio, che si deve ringraziare. Di nuovo Simeone, Guardiola e Heinkes, come minimo. Poi abbiamo Di Bala. Di Bala è arrivato per essere migliorato da Allegri, non è stato migliorato da Allegri, ma sicuramente Di Bala ha fatto grandissime cose alla Juve, ma io dico nonostante Allegri. Mi sbaglierò, sarà discutibile, però... Comunque, il Di Bala, che Allegri ha potuto sfruttare, e forse, e forse non ha valorizzato, veniva dall'essere stato allenato da Iachini, pochissimo, ma anche da Gattuso, una partita anche da Malesani, e da Gasperini, oltre a Sannino. E questi sono i principali allenatori in Italia, quindi al Palermo, di Di Bala. Quindi Allegri, soprattutto, deve ringraziare Iachini e un pochino Gasperini, per quanto riguarda il Di Bala, che ha potuto sfruttare. E poi, quando è tornato la scorsa stagione, nel mezzo, ovviamente, deve ringraziare anche Sarri e Pirlo. O no? Non deve ringraziare anche Sarri e Pirlo, per come gli hanno restituito Di Bala, per come gli hanno restituito anche Morata? Su Di Bala c'era meno da dire, perché ha avuto un'esperienza più breve, prima di essere allenato da Allegri, mentre poi c'è anche Quadrado. Quadrado, tanti anni alla Juve, ma il primo anno alla Juve, Quadrado lo fa con Allegri, provenendo dal Chelsea, poco dopo che lo voleva Conte e non si è riuscito a prenderlo. Prima di essere allenato da Allegri, Quadrado è stato allenato solo 15 partite da Murigno, ma soprattutto da Montella, alla Fiorentina, 106 partite. Montella è il secondo allenatore con più presenze di Quadrado, cioè con cui Quadrado ha fatto più presenze. Poi abbiamo anche da segnalare Cosmi, Di Francesco, Guidolin ed altri. E poi, quando Allegri ritrova Quadrado, Sarri e Pirlo, ma soprattutto Pirlo, che ha valorizzato Quadrado in maniera straordinaria. quindi Allegri, segnate, state segnate tutti questi nomi, deve ringraziare anche di nuovo Murigno, Montella, che lo ritroveremo, lo ritroveremo addirittura Cosmi, Di Francesco, e direi soprattutto Sarri e Pirlo. In questo caso Conte non c'è. Poi abbiamo Alexandro. Alexandro avrei potuto evitare, perché non è che si è trattato, però è un giocatore comunque fondamentale, 234 presenze finora con Massimiliano Allegri in tanti anni. E per come Allegri ha ritrovato Alexandro dovrebbe ringraziare Sarri e Pirlo, ma qui c'è un altro discorso da fare, perché Sarri e Pirlo non sono riusciti a valorizzare l'Alexandro, ma non che Allegri abbia fatto meglio, cioè ormai secondo me è un giocatore totalmente a fine carriera, nonostante abbia 32 anni, vada per i 33, quindi avrebbe forse ancora qualcosa da dire, ma evidentemente no, però quasi 18.000 minuti in campo, cioè pensate, Allegri ci ha consegnato quasi 18.000 minuti di Alexandro in campo, però il fatto è che comunque Alexandro prima non era male, e da chi era stato allenato e quindi chi dovrebbe ringraziare Allegri per quell'Alexandro lì del 2015, Lopeteghi, Luis Castro, poche presenze, Paolo Fonseca, Vitor Pereira soprattutto, e poi ci sono anche altri, ma questi sono i più significativi, quindi deve ringraziare anche questi altri allenatori Allegri. Poi andiamo a Higuain, perché è chiaro che Higuain, per quanto sia stata un'operazione di Marotta, paga la clausola, fai un po' il gradasso, abbiamo speso 90 milioni per i quali, abbiamo preso il bomber del campionato, però è stato un giocatore che ti risolve la partita con cui fare all-in per la Champions, non vinta, e comunque ci si è arrivati in finale al primo anno, cioè alla 16-17. Chi deve ringraziare Allegri per come è, qui mi viene da ridere, ovviamente lo sapete, Sarri, chiaramente Sarri, cioè immediatamente prima di Allegri, appunto, è stato allenato anche da Sarri, soprattutto da Sarri, c'era stato però al Napoli anche Benitez, anzi voglio curiosare perché siccome poi Higuain ha ritrovato Sarri alla Juve, voglio vedere quante partite ha fatto con il Napoli, oltre che anche col Chelsea, devo dire, con il Napoli, Sarri, cioè con Higuain, con Sarri al Napoli ha fatto 42 presenze perché è stata solo la stagione 15-16, sulla stagione 15-16 poi appunto è passato, ma soprattutto dire, soprattutto Sarri che poi ha ritrovato al Chelsea e alla Juve, però infatti un totale di 104 presenze Higuain con Sarri però c'era anche Benitez, di nuovo Murigno, 123 presenze col Murigno in panchina Higuain, Manuel Pellegrini, Berne Schuster, Juan de Ramos, Fabio Capello, 23 presenze al Real Madrid, Daniel Passarella, quindi tanti allenatori ma soprattutto direi Benitez, Murigno di nuovo e ancora una volta Sarri, e ancora una volta Sarri. Per Higuain bisogna ringraziare questi qua. Poi c'è Chedira, e Chedira lo prendi a zero e gli dai un sacco di soldi, ma Chedira come si fa a negare che sia stato un giocatore chiave di Allegri. Ma prima di essere allenato da Allegri, Chedira è stato allenato da Ancelotti, Murigno ancora, poi anche altri allenatori tra cui Marcus Babbel e Armin Vee in particolare nella sua esperienza in Germania, in particolare allo Stoccarda. Quindi soprattutto Murigno, 126, pensate, con Allegri 127 partite, con Murigno, 126, Chedira in carriera. Quindi sono i due allenatori con cui ha giocato di più, come minuti anche, di più con Allegri, però l'importanza di Murigno è chiave. Quindi tu dici Chedira, grande giocatore, perché Chedira ha sempre giocato con tutti gli allenatori, diceva Allegri, perché Chedira è un fenomeno, Chedira è un professore, chi l'ha fatto professore? Murigno. Non Allegri, Murigno l'ha fatto professore per quello che l'ha potuto sfruttare. Pjanic, altro giocatore di cui è stata pagata la clausola. Sicuramente Pjanic ha migliorato tanto sotto Allegri, lo diciamo, lo diciamo, Pjanic ha raggiunto il suo prime sotto Allegri, non abbiamo problemi ad ammetterlo, con cui ha fatto 135 presenze, però per arrivare a poter esprimere il suo prime sotto Allegri, da chi è stato allenato prima Pjanic, da Spalletti, 19 presenze alla Roma, Rudy Garcia, sempre alla Roma, Zeman, Andrea Zoli, andando ancora più indietro anche Claude Puel, quando era evidentemente, credo a, non so se a Lione o al Mets. Lo vado a recuperare per chiarezza, quando parliamo di Claude Puel stiamo parlando per quanto riguarda Pjanic, che comunque, ripeto, bisogna ringraziare, ecco, stiamo parlando in particolare del, stiamo parlando del Lione, esatto, allenatore del Lione, quindi soprattutto nella lunga esperienza a Lione, con il Lione, Pjanic, 121 presenze, 16 gol e 21 assist, e 116 panchine con Claude Puel, ma anche, abbiamo detto, Zeman, Andrea Zoli, Rudy Garcia, Spalletti, soprattutto quindi, gli allenatori che ha avuto alla Roma, che è la squadra con cui ha fatto più partite 185, quindi, se anche è vero che Pjanic ha raggiunto il prime con Allegri, bisogna ringraziare Spalletti, Garzia, eccetera. Dani Alves, come non citare Dani Alves, altro classico giocatore che viene a risolverti le partite, poi se ne è scappato, prima di essere allenato da Allegri, Luiz Enrique, Martino, Villanova, Guardiola, 208 partite, Juan de Ramos, Joaquin Caparros, perché insomma ha giocato anche nel Siviglia, nel Sao Paolo, nel Paris Saint Germain, anche se il Paris Saint Germain successivamente, ma soprattutto, quindi abbiamo detto Luiz Enrique e direi Pepe Guardiola, soprattutto, quindi di che cosa ancora Allegri deve ringraziare, e tu direi, eh ma è forte Dani Alves, ma mica è forte per merito tuo, poi Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, vabbè ci sarebbe poco da dire su Cristiano Ronaldo, è chiaro che Cristiano Ronaldo è fortissimo, ma anche qui, con Allegri, fa una stagione intera e fa meno gol che abbia mai fatto con tutti gli altri allenatori in tutte le altre stagioni, e infatti con Sarri 37 e con Pirlo 36, già basterebbe, diciamo, questo, ma prima di Allegri, Zidane, 112 gol in 114 presenze, Benitez, 25 gol in 24 presenze, Ancelotti, 112 gol in 101 presenze, Murigno, 168 gol in 164 presenze, Sir Alex Ferguson, 118 gol in 292 presenze, questo era l'inizio al Manchester United, anche Manuel Perlegrini, cioè, capite? Poi è chiaro, stiamo parlando, sì, vabbè, ma era il Real Madrid, ma era il Manchester United, erano squadre fortissime, però Murigno, con Murigno, ha fatto più gol che partite, con Allegri 28 gol in 44 partite, con 11 assist, anche, ho tralasciato i dati sugli assist, quindi, i dati di Cristiano Ronaldo, ma c'è poco da dire, ma comunque, al di là del rendimento di Cristiano Ronaldo con Allegri, che comunque ha preso in considerazione, bisogna ringraziare qualcun altro. Poi, ci avviciniamo al tempo attuale, quindi, vediamo, Vlaovic, lo tratto adesso, altrimenti poi me ne dimentico, Vlaovic, qui è clà, chi devi ringraziare per Vlaovic, e appunto abbiamo il ritorno di chi vi citavo prima, Italiano, Prandelli, Iachini, e anche un po' Montella, quindi, per quel Vlaovic lì, pagato quei soldi, che serve ad Allegri per risolvere le partite, bisogna ringraziare, Allegri deve ringraziare, Italiano, Prandelli, Iachini, e anche un po' Montella, 19 partite, quindi ritorna anche Montella. Poi abbiamo Federico Chiesa, che pure viene dalla Fiorentina, prima di essere allenato da Allegri, intanto si deve ringraziare Pirlo, con cui Chiesa fa una delle sue migliori stagioni, 43 presenze, 14 gol e 10 assist. Poi devi ringraziare Iachini, Pioli, 71 presenze, attualmente l'allenatore che ha schierato più volte Chiesa, e ancora Montella, oltre a Paolo Sousa, e a Federico Guidi, per citarli veramente tutti, anche compresa la Fiorentina Primavera. Questi sono tutti quelli che Allegri deve ringraziare per Chiesa, ma non credo che Chiesa ringrazierà Allegri. Poi abbiamo Rabiot, ma Rabiot è sbocciato con Allegri, sì, ci ha messo un anno abbondante, e si è trovato in concomitanza con il Mondiale, la scadenza di contratto, però diciamo che è sbocciato. Ora, vogliamo dire che Allegri non debba ringraziare Sarri e Pirlo, diciamo che con Sarri e Pirlo, Rabiot ha underperformato, va bene, possiamo anche essere d'accordo, però prima andando indietro devi ringraziare Tuchel, Emery, e soprattutto Laurent Blanc, nell'esperienza precedente di Rabiot, tra Paris Saint Germain e Tolosa. In realtà Laurent Blanc parliamo sempre di Paris Saint Germain, quindi questi sono altri nomi che Allegri deve ringraziare. Andando avanti abbiamo anche Manuel Locatelli, certamente non è un fenomeno, però 40 e passa milioni, preso per Allegri, sfruttato male, svalutato, però comunque giocatore chiave, comunque giocatore di riferimento, possiamo dire, di Allegri, quantomeno a livello ideale, e prima di Allegri devi ringraziare De Zerbi, di nuovo Montella, eppure Gattuso, oltre a Cristian Brocchi, che ha allenato nella primavera del Milan Locatelli. Brocchi, cioè quando Locatelli è sbocciato un po' come un talento, e poi in realtà si è anche un po' perso per un certo periodo, e poi è stato ripreso, c'era Brocchi, c'è stato Gattuso, e di nuovo Montella, e poi soprattutto De Zerbi, con cui, guarda caso, ha avuto il rendimento migliore, 99 presenze, 7 gol e 11 assist, in 92 con Allegri, 3 gol meno della metà, e 7 assist poco più della metà, per dire, siamo più o meno lì, anche come minutaggio, 6700 a 7600, quindi mancano 900 minuti di differenza, e più o meno ci troviamo, una decina di partite, quindi, deve ringraziare De Zerbi, deve ringraziare De Zerbi, poi abbiamo Danilo, Danilone, come fa a non essere giocatore simbolo di Allegri, Danilone, anche se Danilo arriva con Sarri, quindi, intanto, Allegri per Danilo, deve ringraziare Sarri e Pirlo, per l'ennesima volta, ma poi deve ringraziare di nuovo Guardiola, e Zidane, e Benitez, e Lopeteghi, e Luis Castro, e Paolo Fonseca, e Vitor Pereira, e Murici Ramaco, Ramajo, ed altri, ed altri, quindi tutti gli allenatori, dell'esperienza anche brasiliana, di Danilo, ci sono ancora dei graditi ritorni. Andiamo poi anche a De Ligt, che comunque Allegri si è ritrovato pure De Ligt, un anno, l'ha fatto scappare, però un anno, quindi deve ringraziare anche qui, Sarri e Pirlo, ancora, per come ha trovato De Ligt, dopo due stagioni, precedentemente, soprattutto, Denag, e Marcel Kaiser, oltre a Peter Boss, tra gli allenatori, delle varie giovanili, dell'Ajax, e dell'Ajax, prima squadra, di De Ligt, soprattutto, Eric Tenag, e Marcel Kaiser, quindi ringraziamo anche questi altri allenatori, Allegri, rende grazie anche a questi, poi Milik, Allegri sceglie Milik, mi serve Milik, perché Milik, meglio di Vlaovic, Milik, comunque, non è proprio quel giocatore, che ti risolve le partite, però è l'attaccante, un po' come Mandjukic, che può piacere, d'Allegri, e quindi, chi deve ringraziare? San Paoli, soprattutto, Gattuso, anche al Napoli, evidentemente, poi, Ancelotti, Sarri, Frank De Boer, e quindi, tornano Sarri, ancora Sarri, sempre al Napoli, Ancelotti, pure al Napoli, ancora poi Gattuso, poi c'è stata una rottura, come sapete, di Marsiglia, di Milik, con il Napoli, poi, soprattutto San Paoli, nell'esperienza successiva, poi, abbiamo anche, Filippo Kostic, arrivato la scorsa estate, dice, Kostic è un bel giocatore, bell'acquisto, Kostic diventerà il crossatore della Juve, a parte che ha fatto un buon inizio di stagione, poi si è un po' allegrizzato, si è andato un po' a perdere, ma anche qui, chi deve ringraziare? Oliver Glassner, che, quasi quasi, sarebbe un ottimo allenatore, attualmente, per la Juve, e che, appunto, con l'Eintracht, ha valorizzato, sicuramente, Kostic, precedentemente, Adi Hutter, 127 presenze, 26 gol, e 48 assist, con questo allenatore, per Kostic, e poi, in precedenza, abbiamo anche, Marcus Gisdol, ed altri, ma, fondamentalmente, Kostic non è mai stato un fenomeno, non è mai stato un giocatore, di primissimo piano, però, è diventato, ed è un giocatore solido, per questo, chi si deve ringraziare? Certo, Allegri non deve ringraziare se stesso, abbiamo gli ultimi due, uno è Bremer, per Bremer, chi deve ringraziare Allegri, ovviamente, Juric, ma non solo, anche Giampaolo, che tanto si conoscono, quindi si ringrazieranno, molto volentieri, Davide Nicola, Mazzarri, oltre a Moreno Longo, ed altri, nelle giovanili del Torino, e poi, precedentemente, anche nell'Atletico Mineiro, da cui proviene Bremer, ma soprattutto Juric, soprattutto, perché con Juric, Bremer, si afferma, e si consacra, come miglior difensore, della Serie A, anche se, aveva già dei difetti, che poi ha mantenuto, alla Juventus, ma certamente, alla Juve è peggiorato, ma con lì, basta guardare le partite, basta semplicemente, guardare le partite, e poi appunto, chiudiamo con Di Maria, chiudiamo in bellezza, con Di Maria, il giocatore più svalutato, probabilmente, da Allegri, in tanti anni, in sette anni di Juve, il giocatore più svalutato, meno valorizzato, più peggiorato, forse proprio Di Maria, forse proprio Di Maria, cioè, forse il migliore, che ha avuto, probabilmente Di Maria, è il giocatore più forte, insieme a Cristiano Ronaldo, che Allegri ha potuto allenare, proprio parlo anche, di quelli del Milan, mettiamoli tutti quanti insieme, secondo me Di Maria, sta sul podio, dai, dei giocatori più forti, sicuramente Tevez, anche altri giocatori, che ha allenato al Milan, però, cioè Di Maria, stiamo parlando di Di Maria, ed è riuscito, a peggiorarlo, prima di Allegri, chi doveva ringraziare, comunque, nel momento in cui tu dici, io voglio Di Maria, perché mi risolve la partita, chi deve ringraziare, chi ha reso Di Maria forte, per poterti risolvere la partita, Pocettino, Tuchel, Emery, Blanc, Van Gaal, Ancelotti, Murigno, Giorgio Jesus, Kike Flores, Sanchez Flores, Così Antonio Camaccio, ed altri, ed altri, quindi comunque, tornano anche spesso, gli stessi nomi, Ancelotti, Murigno, abbiamo visto Montella, Guardiola, Sarri, ripetutamente, oltre appunto a Pirlo, prima di lui, nell'anno alla Juventus. Questa era la carrellata, dei giocatori, di alcuni dei giocatori, ma diciamo i principali, che hanno fatto le fortune, o avrebbero dovuto fare le fortune, di Massimilano Allegri alla Juventus, grazie al fatto che, sono stati allenati da qualcun altro, ed ecco, i nomi allora, degli allenatori, chi è allegri, dovrebbe ringraziare, prima di tutto, c'è da fare, i complimenti ai colleghi. Grazie per la vostra attenzione, buon dibattito nei commenti, like al video se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche, per non perdere i prossimi contenuti, abbonatevi al canale, a partita da 99 centesimi al mese, per avere tanti vantaggi, e seguitemi anche sul mio secondo canale, Avesim Out, per video brevi sul calcio, primo link in descrizione. Ci vediamo molto presto, e senza compromessi, sempre Allegri Out! Grazie a tutti!